L'endometriosi è una patologia benigna che ha un'alta incidenza considerando che in Italia ne soffrono milioni di donne in età fertile, quindi dal menarca, dalla prima mestruazione la malattia può poi spegnersi con la menopausa. È una patologia benigna caratterizzata dal fatto che il tessuto endometriale, cioè della parte interna dell'utero, si va a localizzare in delle sede ectopiche, cioè presente in delle zone al di fuori dell'utero.